Io vi tedierò il meno possibile, ma giusto due notte, tanto avete il mangiare e arriverà subito ancora avanti. Dunque, Vermentino, che è un vicino che va, diciamo, per fortuna purtroppo molto di moda, in Toscana lo si sta piantando un po' ovunque, principalmente a Bolgheri, ma diciamo le sue zone, diciamo, d'origine o comunque ovviamente sono legate al Mediterraneo, la Sardegna, ovviamente il famoso Vermentino di Gallura, l'incorsica, un po' di Provenza e appunto in Toscana, che in realtà a Bolgheri e Maremma è una, diciamo, scoperta recente, più la zona dei Colli di Luni, la Candia dei Colli di Aquani, quindi sono un'altra, altre sono le zone classiche del Vermentino, perché il Vermentino è un vitigno un po' particolare, si dice, no, sui vini bianchi c'è bisogno di escursioni termiche, in realtà il Vermentino non ce n'ha bisogno, sembra anzi che è meglio quando non sono così estreme, è un vitigno che ha bisogno di pochissima acqua, anzi ha bisogno di eredità, quindi siccità è più possibile, terreni si trova bene sia argillosi che sabbiosi, però chiaramente riflette in maniera molto diversa il territorio, può essere una specie di chardonnay un pochino più fresco, ma può essere anche andare molto più su toni minerali, più asciutto e a volte si fa anche fatica a preferirlo in mezzo a altri vitigni, perché tende ad essere poco colorato, vedete questo nonostante faccia un po' di macerazione, il colore è piuttosto chiaro e questo alla scieca, diciamo di sapere cos'è, le persone tendono sempre a preferire i vitigni anche sugli angoli sono un pochino più colorati, invece il Vermentino è veramente praticamente impossibile, se è solo il Vermentino e non mescolato, come insolvente succede, il Sauvignon di Chardonnay, che quasi, sapete, se è anche scritto Vermentino in etichetta, quello garantisce che è l'85% il Vermentino, poi l'85% può essere qualsiasi vitigno bianco e spesso ne basta poco per, diciamo, bilanciare il Vermentino, però lo si riconosce, perché quando l'acidità è molto alta, i profumi non sono sparatissimi, dolcissimi e in bocca è un po' tagliente, ecco, quello lì è quasi sicuramente tutto Vermentino, non c'è, diciamo, giustamente risolta. Ora, in questo caso, ecco, i profumi sono anche tenuti basso alla temperatura, hanno servito molto freddo, così, insomma, magari poi fai in tempo a prendere, però, ecco, sentite, le sensazioni sono, vanno dall'agrumato a, è la famosa sensazione del Vermentino, si dice, no, che sappia un minimo di salvia, salvia di erbe aromatiche, prima ancora di sapere di fruttini, pesca bianca, quante fiore, come può essere il gelsomino, insomma, tra un po' tutti sapremo di cosa sa, perché se riscono un paio di settimane tutti vedete questo profumo nel naso, per ora è già più difficile. Quindi, ecco, un vitigno non ruffialissimo, come siamo abituati a bere, magari, in certe zone, anche in maremma, che in maremma spesso sono un pochino più dolci, invece quelli più si avvicinano al mare e più schietti sono, sono più asciutti, meno pulenti, meno grassi come vini. Andiamo ad assaggiarlo? Sì! Ecco, sentite in bocca l'aspetto citrino, viene fuori tantissimo, l'acidità altissima, un bel corpo che viene fuori, assoluta assenza di alcol, sensazioni calde, anche se comunque 12 gradi e mezzo, e questo vino, la zona è caldissima, siamo vicini al mare, siamo a maremma, è una zona calda, però si vedete che nel vino tutto questo non si sente, e rimane proprio questa sensazione citrina, piacevole, fa salivare il vino molto dissetante e il finale appunto fa tutto il citrino, l'arancio, ritorni minerali, un lieve vegetazione gessosa, che è un'altra caratteristica che su certi suoni il vermentino, il vermentino lo stanno scoprendo un po' in tutto il mondo, perché questo è il fatto che resiste molto bene senza acqua, pensate all'Astralia, alla California, queste estese dove il suo minore l'acidatore si trovano bene, ma non bene come il vermentino, che garantisce un racconto. C'è proprio l'acidità, l'acidità insieme alla stabilità, che sono le cose che fanno dissetare in realtà, più che l'acidità, che comunque come l'acqua gassata, però le acque che hanno l'acido salino dissetano di più, proprio perché non tipo Gatorade, insomma, ma comunque fanno una bevanda non isotonina, ma insomma, sicuramente alla fine la sensazione dissetante è veramente grande. Ecco, quando siamo in queste cose state sicuri che gli altri vitigni quali sicuramente non ce ne sono. Dopo seguite.